ciao oggi siamo a maroni zona piccolo stevio quella lì è la strada che porta il piccolo stevio e andremo a fare la striker line una discesa abbastanza conosciuta che porta giù in base 40 abbastanza tecnica e insidiosa non per niente banale dei passaggi tecnici da tanti sassi a punta risposta una bella discesa eccoci arrivati qui dove c'è questo vecchio casolare scendiamo di qui a destra prima parte è abbastanza scorrivole si incontrano nel bosco abbattuto però arriva la parte divertente è scivolosa si riusciva a saltare qui e volendo sì non c'è più bene non non Sì E qui giriamo a destra e comincia la parte tecnica Ho avuto molti sassi in mezzo al sentiero Per i spigolosi Il mio punti sul tiro è anche abbastanza stretto Con gli albri in parte Dipostiamo la condizione Questo pesto è sempre bello rovinato Ok E qui proseguiamo nel campo Allora Adesso potrei uscire lì Ed eccoci fuori E arriviamo a Pigozzo Dice la chiesa Bene Questa era la stricker Discesa bella Bella tosta